Se non c'era napolitano non c'era neanche monti. Il terzo mondo si sta... si sta ribaltando almeno per quanto riguarda l'Italia. Il terzo mondo si sta... si sta ribaltando almeno per quanto riguarda l'Italia. Tra monti e sindacati si sapeva già che vincevano i sindacati. Tra monti e sindacati si sapeva già che vincevano i sindacati. Sto vedendo persone che hanno il cuore di pietra. Sto vedendo persone che hanno il cuore di pietra. Un cataclisma ci può sempre succedere, eh? Un cataclisma ci può sempre succedere, eh?